Oggi parliamo del turismo sessuale. Gli italiani siamo ai vertici come consumatori di prostituzione minorile. L'uomo di età media intorno ai 30 anni è con un buon titolo di studio. È questo il profilo tipo del sex offender tracciato da Ending Child Sexual Exploitation, la ONULS che da quasi 30 anni si occupa di protezione dei minori. Un triste primato. Quello dei viaggiatori del sesso che il nostro paese si è guadagnato tra vacanze, viaggi di lavoro, dove l'occasione viene colta sempre più spesso. Sono oltre 80.000 gli italiani che ogni anno vanno a caccia del piacere durante i loro viaggi. Un piacere che cercano tra le braccia dei minori, dei piccoli. Tra le mete preferite, Thailandia, Brasile, Kenya, Moldavia e l'est Europa. Manca una cultura sui diritti dell'infanzia. E questo fa crescere il fenomeno. È un aumento. Il turista sessuale. Quello che non si muove sul web, come di solito fanno i pedofili. La criminalità organizzata ormai ha intercettato questo bisogno. È quadruplicato il materiale pedopornografico che circola sul web. Specialmente nel dark web, dove il controllo è quasi assente. Bambini trattati come oggetti sessuali. Ma anche oggetti di commercio. Italiani, nostri concittadini. Violentatori che colpiscono drammaticamente il corpo e la psiche di bambine e di bambini. Che li sfruttano perché sono poveri. Che approfittano di un sistema che tollera questa forma di schiavitù minorile. Voglio concludere con le parole di William Wilberforce. Leader del movimento contro la schiavitù, che portò nel 1807 all'abolizione della tratta degli schiavi. Lui scrisse, ve lo leggo prima in inglese. Having heard all of this, you may choose to look the other way, but you can never again say you did not know. A presto.